Buonasera all'onorevole Tommaso Currò del Movimento 5 Stelle che è collegato con noi dallo studiolo Rai di Montecitorio. Buonasera onorevole. Buonasera. Grazie di essere con noi. La risposta all'Europa, questo 3% che non verrà in nessun modo valicato, questa soglia. Come commenta Currò? Ma noi guardi questa questione la possiamo affrontare andando a vedere direttamente quali sono i provvedimenti con cui questo Governo cerca di affrontare il problema della crisi del nostro Paese. Il concetto del 3% ci può anche trovare d'accordo ma comunque già si faceva rilevare oggi su alcuni quotidiani della stampa che questa cosa probabilmente non sarà rispettata e in ogni caso noi riteniamo proprio che a fronte dei provvedimenti che noi vediamo che vengono posti in essere dal Governo e che noi analizziamo direttamente in Parlamento si prendono e si adottano delle misure che secondo noi non saranno di rilancio dell'economia ma piuttosto invece serviranno a mantenere in piedi di invita questo Governo che come sappiamo essendo nato appunto su un presupposto delle larghe intese purtroppo a nostro avviso non riesce a soddisfare quelle che sono le esigenze sia di bilancio del nostro Paese e soprattutto le esigenze delle famiglie, dei consumatori e dei cittadini appunto italiani. Dice Mario Monti un tema importante, la decadenza possibile da senatore di Silvio Grosconi ancora più importante però è il tema della decadenza dell'Italia e poi ovviamente lei all'opposizione dice che è importante l'ex Premier che non si stacchi da questa maggioranza anomala ma comunque giudicata dal Presidente della Repubblica necessaria nel momento in cui conferì l'incarico a Enrico Letta appunto che non si stacchi una gamba fondamentale di questa maggioranza. Cosa risponde? Ma guardi cosa devo rispondere? Io credo che gli italiani ormai abbiano un pochino anche la testa piena di questa vicenda di Berlusconi qui volendo proprio semplificare il problema è avere contezza di come le vicende personali di un leader di partito pur riconosciuto con tutta la sua legittimità tuttavia oggi è stato giudicato con una sentenza appunto irrevocabile, definitiva io ritengo che si debba, lui stesso secondo me dovrebbe prendere atto se proprio finora, peraltro lui ha sempre detto di essere uno statista, un grande statista io ritengo che si è statisti anche quando si è capace di riconoscere il momento in cui bisogna fare un passo indietro quindi io non posso accettare l'idea, io sia come singolo deputato, come singolo cittadino ma anche come appartenente in questo momento così rappresentante del movimento che mi ha consentito appunto di entrare in Parlamento non possiamo fare a meno di restare veramente basiti rispetto a questa questione dico che l'interesse, l'ha detto anche lei, primario è quello dei cittadini è quello degli italiani, dopo vengono gli interessi personali di Silvio Berlusconi che faccia un passo indietro, che non continui ancora questa questione a portarla fino alle calende greche noi stiamo vedendo anche peraltro gli effetti economici quelli che più mi interessano, io lo vedo in commissione bilancio la commissione appunto dentro la quale io mi trovo l'effetto dell'argentese produce uno stallo per ciò che riguarda l'attuazione delle politiche economiche del paese che è veramente sconcertante noi assistiamo ad una politica che ricorre a delle coperture finanziarie di provvedimenti che già di per sé noi in parte non condividiamo coperture dicevo che fanno un pochino lo spostamento delle carte perché quando tu mi vai a ridurre delle autorizzazioni di spese che hai fatto in recentissimi provvedimenti beh allora non si capisce più a quale diciamo così su quale scala temporale tu costruisci appunto le tue politiche economiche e allora glielo dico io qual è la scala temporale la scala temporale è quella del momento perché oggi si vuole preservare un determinato equilibrio tra questi due partiti e quindi si soddisfano determinati interessucci fra un mesetto gli equilibri cambiano e quindi si devono soddisfare gli altri interessi ma in questo modo noi non andremo mai da nessuna parte noi abbiamo bisogno di attivare la politica affinché faccia delle politiche economiche di lunga cittata che cominci a dire agli italiani a capire bene su quali settori strategici del nostro paese vuole intervenire vuole investire su quale ruolo si deve avere anche in Europa perché questa questione del 3% va vista ma va rivista anche la questione appunto dell'area monetaria unica vanno riviste tante tante questioni il problema è che su questo sì c'è molto c'è fondamentalmente un grandissimo tabù e quindi non si riesce a venirne fuori c'è il problema del lavoro c'è il problema dell'uscita dalla crisi economica c'è il problema del rapporto tra lavoro e ambiente e sostenibilità e tutela della salute che poi il grande dramma che riguarda l'ILVA la vostra posizione guardi su questo punto noi abbiamo sempre avuto le idee abbastanza chiare fin dal primo momento in cui mi sono messo appunto ad attivarmi per questa battaglia ho condiviso proprio l'aspetto che riguarda la sostenibilità ambientale guardi io provengo da un'esperienza personale di un'impresa, di una grossa azienda che ha saputo fare business e allo stesso tempo però ha saputo investire in ambiente rispettando il territorio quindi ha trovato una giusta via per una sostenibilità economica ed anche ambientale è chiaro che a Taranto la famiglia Riva a mio avviso non ha fatto la stessa cosa il problema è un problema molto molto reale oggi si arriva ad una sentenza no sentenza mi scusi ad un provvedimento del GIP che predispone il sequestro preventivo di 960 miliardi di euro in beni sostanzialmente liquidi e la famiglia Riva reagisce dichiarando appunto di mettere in libertà si è usato questo eufemismo tutta una serie di attività produttive che sono di indotto io ritengo che non si può ragionare sempre con la logica del momento sono decenni che non si ha un'idea chiara sulle politiche industriali di questo paese su cosa l'Italia e i governi italiani vogliono puntare non è possibile andare avanti ed annaspare ancora con provvedimenti che nel loro core nei loro stanziamenti negli loro stati previsionali non prevedono appunto una vision per il nostro paese se noi vogliamo puntare sul turismo se noi vogliamo mantenere il nostro patrimonio industriale in un certo modo se vogliamo farlo nel momento in cui vogliamo farlo dobbiamo accettare l'idea che ci sono dei costi ambientali che devono essere sostenuti non si può lasciare derogare a questo principio quindi io ringrazio Curro grazie all'onorevole Tommaso Curro del Movimento 5 Stelle buon lavoro grazie a tutti grazie a tutti